... Ce l'hai? Se no ce l'ho io ... Vai qua, se non se no... Vai qua, se non se no... Se non la tieni sul po' qua ti vuole più. Anche a lei gli ho detto, lo stai lì a aspettare, dagli subito, invece non gli danno un po' e vuole dagli sul sacco, ma se tu gli dai che sei giù dopo lo fai... Allora, invece se gli dai su, come hai fatto prima, gli hai detto, tagli il suo corpo secco. Allora... Allora... Dai che si fa! Lascia questo qua a guardarti come lo fai! Bravo! Vedi? Dai che lo fai! Allora... La 8 ce l'avevo, ma sempre una 7.